buongiorno purtroppo a roma è così a roma vieni qua ti prendi il caffè ti preparo una tazzina che vedo con pellicola fiore inter 0 roma 3 non puoi dire niente qui non puoi dire nulla guarda le facce una faccia sorridente fai vedere il braccio tatuato un bacio quello lì che c'è scritto l'altro romano che non potete parlare però con la scusa perché è romano quindi a tu che cazzo te lì sei dalla Lazio beh il nome è Wilson ma con io tu sei dalla Roma poi pure a voi vi tocca la sveglia perché questi sono forti sono dell'Inter secondo me si entrava per primo urbano ma rifammo scriviamo la lingua purtroppo nel calcio è così con i secchi e i ma non si va avanti perché se quel gol tra le palo di Corino fosse entrato e se l'albero non l'avesse visto che la vita è così la vita è qui non si può recriminare non si deve recriminare allora quindi diamo alito che te ridi Williams cosa te ridi Wilson che te ridi che dimmi che te ridi che parla che parla te ridi ne dite parolacce dimmi una parolacce in Ecuador ma porca come dite che cos'è la buccia va bene facciamo così facciamo così fammi vedere un titolo non nulla il titolo vuoi vedere? pre lo sport grazie pre lo sport grazie Arnaldo pre lo sport pre lo sport grazie Arnaldo c'è qui c'è ci sono la Roma ma che ha fatto nello sport? c'è solo la Roma aspetta che c'è un bel complimenti al capitano e a Fabio che era a San Siro ma tu eri a San Siro? c'è andato a San Siro è andato due minuti fa paradiso Roma guarda che roba Totti che ciuccia interpugata ce lo meritiamo eccolo qua inter 3 scusa inter 0 non c'è capito non c'è capito non c'è capito adagione Fiore 21 punti tutti pieni la tabellina del 3 20 col fatti 1 su beto la rifanno la rifanno la rifanno la rifanno 20 col fatti e 1 su beto miglior squadra in Europa al momento senti c'è scritto la superlore scuta gli eloni gli eloni e domenica facciamo i conti vabbè domenica che c'entra? Roma-Napoli Roma-Napoli vabbè poi vediamo vedremo 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 per voi per Napoli poi possiamo fare io mi sento è stata una partita anche corretta da interista mi sento così da fare i complimenti anche a questo signore qua soprattutto a questo signore che ieri è stato applaudito anche dal tu eri là gli hanno fatto gli applausi c'è anche chi ha fischiato ma quando è uscito ho visto gente devo ammettere alzarsi e batte le mani con la sciarpa del lento dovevi avere eh sì che uno a 37 anni io e qua vabbè sai i mondiali qualcuno io lo so beh il signor Bonolis ha detto che non lo porterebbe mai uno come lui perché è indolente sì ha detto Bonolis ieri non mi sembrava tanto indolente Bonolis uno può dire no uno è per carità però attenzione difendo attenzione attenzione Bonolis non è che ha detto che è indolente nella vita ha detto che è indolente nel gioco nel gioco diceva diceva che magari poi non va dietro a recuperare palla per il gioco non è che la non è che la hai visto la partita ieri mi è sembrato recuperava recuperava lui ha parlato da tifoso dell'Inter ma è giusto recuperare però lì dell'Italia abbiamo capito eh tifoso dell'Inter io sono sincero io lo porterei lo porterei lo metti lì da una parte lo sai perché me lo porterei come premio a una carriera esatto alla fine alla fine della carriera diciamo finisce in bellezza perché sono meglio sono 22 dai uno senti sempre quanti ne portano ai mondiali che non giocano neanche una partita Selvaggi i famosi mondiali di Spagna 82 ti ricordo Selvaggi era là campione del mondo non ha mai non ha mai giocato noi chiudiamo con questo oggi mi becco questo è per stamattina che stai in preparazione Inter 0 Roma 3 eccola qua buona domenica eh vabbè buona domenica a tutti vabbè stasera c'è Inter Milan scusa il Lazio Fiorentino e il Lazio Fiorentino belle partite bocca al lupo a tutti auguri auguri grazie a tutti